Di questo corso mi è piaciuto una rinascita, una rinascita a livello veramente, non lo so a tutti i livelli. Io sono arrivata qui ieri, ero distrutta psicologicamente, moralmente, adesso sono tranquilla e ho una fiducia estrema di quello che sono e metterò a posto le mie situazioni. Vi ringrazio, ma questo corso lo devono fare assolutamente tutti, qualsiasi persona, perché se vuole essere felice qui c'è una grande opportunità di trovare la propria felicità o di capire perlomeno come trovarla, perché è quello che noi nasciamo per questo e abbiamo diritto ad essere felici. Avevo delle paure che erano da quando ero nata che avevo all'interno, ho pianto tantissimo perché ho sentito all'interno che avevo proprio una resistenza fortissima e poi a un certo punto è partito tutto dopo un grandissimo dolore. Tutto è scemato e come sempre quando poi rivivi e rivedi queste cose, le vedi, era così semplice, era così semplice. Patrizia ti amo!